Incredibile, Florence è incinta. No, cosa? Siamo in due. È il tuo gruppo che te l'ha messo in testa, con le tue idee. Credi di essere furba, ma sei solo stupida. Cinque ragazze incinte, bisogna fare qualcosa. A quanto ci risulta, tutt'oggi siamo a 15. A 17 anni non si può essere seri. E nessuno può farci niente. Grazie a tutti.